La mia visione della città delle donne è una politica di relazione, è soprattutto questo. Guarda, ti anticipo una cosa che fra un po' diremo, parafrasando la celeberrima frase no taxation without representation, i nostri stati generali saranno questi, non saranno una passerella, no word without work between e quindi le donne che noi proponiamo, il patto che le donne fanno con le cittadine e i cittadini e no representation without work between, ora durante la campagna elettorale e dopo elette. Noi vogliamo continuare a lavorare insieme.